ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare rego star star dea srl ultimo aggiornamento 2 gennaio 2023 immagine rego star a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni modalità d'uso avvertenze allergeni ingredienti tabella nutrizionale a cosa serve rego star è un integratore appartenente alla categoria degli integratori per la funzionalità intestinale è commercializzato in italia dall'azienda star dea srl informazioni commerciali titolare star dea srl concessionario star dea srl categoria di appartenenza integratori per la funzionalità intestinale forma farmaceutica sciroppo confezioni rego star integratore sciroppo 300 ml indicazioni rego star marchio registrato è un integratore alimentare a base di bra e solubili e vitamine con lattulosio il lattulosio contribuisce all'accelerazione del transito intestinale i frutti oligosaccaridi e linulina favoriscono l'equilibrio della ora batterica intestinale la vitamina b6 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario modalità d'uso assumere uno o due misurini da 15 ml il prodotto può essere assunto puro utilizzando l'apposito misurino oppure diluito in acqua il prodotto va agitato prima dell'uso per un uso ottimale dell'integratore si consiglia di sentire il parere del medico non superare le dosi giornaliere consigliate avvertenze conservare in luogo fresco ed asciutto evitare gli sbalzi termici la data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra correttamente conservato tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata equilibrata di uno stile di vita sano non assumere in caso di ipersensibilità accertata verso uno o più componenti del prodotto informazione per la popolazione generale l'effetto benefico sull'accelerazione del transito intestinale si ottiene con una dose di 10 g di lattulosio al giorno in singola porzione quantificata pari a due misurini da 15 ml allergeni senza glutine ingredienti lattulosio soluzione 50 per cento contiene lattosio acqua frutto oligosaccaridi acqua termale fruttosio inulina correttore di acidità sodio lattato conservante potassio assorbato sodio cloruro correttore di acidità acido citrico antiossidante acido ascorbico aroma piridossina cloridrato acqua termale salso bromo iodica purgativa forte fonte di s andrea bagni pr tabella nutrizionale informazioni nutrizionali per dose 30 ml per cento vnr per dose lattulosio 10 g fibre di cui frutto oligosaccaridi 6,5 g 6 g piridossina vit b6 0 e 42 mg 30 per cento per cento vnr uguale percentuale dei valori nutritivi di riferimento fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato